L'NFC, acronimo di Near Field Communication, consente lo scambio di dati senza contatto su brevi distanze e, di conseguenza, ad esempio, l'installazione confortevole del proprio smartphone nel veicolo. Per poter installare lo smartphone tramite NFC per il veicolo, è necessario che lo smartphone venga riposto nello scomparto portoggetti NFC. Lo smartphone deve essere acceso e sbloccato, così da poterlo collegare al sistema multimediale tramite Bluetooth. Infine, se è necessario, confermare il collegamento o il codice di accesso visualizzato sullo smartphone. Se lo smartphone è collegato, le funzioni del telefono e la trasmissione audio per appositi apparecchi risultano disponibili. A partire da questo momento, lo smartphone verrà collegato automaticamente a ogni viaggio. Qualora lo smartphone desiderato non fosse collegato, è possibile collegarlo nello stato sbloccato sfiorandolo brevemente. Riponendo lo smartphone sulla superficie d'appoggio, questo viene caricato automaticamente. A tal fine, non occorre sbloccare lo smartphone o un collegamento Bluetooth. All'inizio e alla fine del processo di ricarica, nel sistema multimediale viene visualizzata un'avvertenza corrispondente. Per poter sfruttare la ricarica senza cavo, lo smartphone deve disporre dello standard QE. Maggiori informazioni sono reperibili presso il produttore del rispettivo smartphone o sul sito internet Mercedes-Benz. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.